Amici sta per iniziare un nuovo episodio di Buongiorno San Paolo della nostra rubrica Startup Eros e Investidores e oggi l'ospite è Carlo Bertelli, CEO di Uolico e Founder di Kama Sport ma prima di tutto vado a chiamare il mio co-speaker Fabrizio Spaolonsi che ha portato l'ospite di oggi. Stai ascoltando Buongiorno Business, il podcast che parla di Startup e imprenditori tra Italia, Brasile e America Latina. Tutti i mesi dalla collaborazione tra Buongiorno San Paolo e Casa Italia Club, l'intervista ai protagonisti. Un viaggio attraverso le sfide, le difficoltà di chi ha investito all'estero e ce l'ha fatta. Quindi Fabrizio, oggi parliamo di una Startup tra Italia e Brasile ma in realtà che ha nell'Italia un grande ruolo da un punto di vista del calcio. Andiamo a conoscere Carlo Bertelli che è qui con noi. Grazie, grazie mille. Benissimo, benissimo. È super bello essere qui. Grazie per aver accettato l'invito. Tra l'altro ringraziamo Fabrizio che ti ha portato qua perché sono mesi e anni che lo insegui. Però lui è troppo avanti sia tecnologicamente che sul percorso, quindi sono riuscito a braccarlo adesso finalmente. Allora, partiamo un po' dalla tua storia e poi spiegheremo anche un po' l'evoluzione del tuo percorso da Startup oramai a impresa consolidata anche se ti definisci uno Startupero. Sì, mi piace molto l'idea della Startup di iniziare, avere nuove sfide che comunque secondo me è una costante anche di tutte le aziende che in tutti i settori estremamente ormai competitivi devono continuare a innovare. E quindi non è ovviamente mai iniziare da zero, però la tecnologia ormai è ovunque, la comunicazione cambia costantemente, l'approccio alla vendita anche. Per cui è sempre come dire, secondo me essere Startup vuol dire non per forza aver abbandonato il proprio precedente lavoro per andare a creare qualcosa di nuovo, ma proprio anche in quello che si fa a cercare di portare un po' di innovazione che è veramente il focus qui, che mi piace stare e identificarmi un po'. E poi la Startup è una forma mentis quasi, no? Esattamente, secondo me è la forma mentis con cui tante persone approcciano al lavoro tutti i giorni e poi ovviamente ci sono dei casi che sono quelli estremi proprio di gente che magari lascia il proprio lavoro o che in America ci insegnano o che lasciano addirittura l'università per inseguire di fatto un sogno. Poi si sanno le storie di quelli che hanno un po' avuto successo, mentre poi la difficoltà sempre di creare qualcosa di nuovo è veramente tanta, per cui per me il coraggio di voler innovare è veramente quello su cui cerco un po' di identificare. Innovare vuol dire anche fare molto brainstorming, capire bene anche come valorizzare il talento, le persone, cioè è bello, è entusiasmante. Carlo, raccontaci un po' il percorso di come nasce Kama, come nasce la tua esperienza anche poi nel mondo del calcio e un po' com'è riuscita a diventare un punto di riferimento per il mondo sportivo Kama. Certo, beh, come nasco io dal punto di vista imprenditoriale, devo dire che è stato abbastanza veloce ma progressivo. In verità, quando ero giovane, giovanissimo al liceo, il mio obiettivo primario era non lavorare. Quindi, mi sembra che lavoro tutti i giorni e che, come dire, workaholic, no? Però, e infatti volevo fare un percorso di studi che era molto a largo sulla filosofia, quindi ho detto però non faccio subito filosofia, faccio fisica, poi faccio un po' di economia, poi faccio, e finisco a fare politica. Poi un percorso di studi che ho fatto, effettivamente, e poi quando ero su il primo anno di università che studiavo appunto fisica all'Università di Trento, era un po' l'anno magico di Facebook con tutte quelle acquisizioni, Whatsapp, e tu eri lì, su un banco di scuola, e vedevi un, ero meno che trentenne che faceva acquisizioni da miliardi di euro, ma soprattutto al netto di questi numeri vedevi un giovanissimo che aveva un impatto sulla vita di tutti noi, perché poi Facebook all'epoca lo usavamo tantissimo, poi è arrivato Instagram, e quell'impatto credo mi ha spinto veramente a rompere le scatole a tutti i miei compagni se volevano lanciare con me qualche iniziativa. Ho iniziato a fare qualcosa nel mondo dell'e-commerce, più diciamo sempre in un'ottica un po' innovativa, e quindi era nato Camarent all'inizio, poi è diventato CamapuntoLand, e poi dopo nel 2017 proprio all'Università di Trento, la FIGC, e qui anche il caso se vuoi, la FIGC organizza il primo hackathon, che è di fatto una maratona di hackers, chiamiamoli così, di nerd, che dovevano cimentarsi con il mondo dei dati, e io ho partecipato a questo evento, portando dietro con me, all'epoca, come dire, le persone che veramente erano rimaste attaccate questi progetti che facevamo nel tempo libero, nel tempo perso, per viverci quella cosa che ci sembrava interessante. E da lì non abbiamo vinto quell'evento lì, però ho incominciato dopo l'evento a mandare dell'e-mail a un po' di squadre di calcio, ma veramente andando sul sito e dicendo, abbiamo partecipato a questo evento, vorrei presentarvi quello che abbiamo fatto, e mi ricordo come se fosse ieri la risposta di un dirigente di Juventus, si chiamava Ezio Martini, che adesso è andato in pensione, che mi dice, siamo a conoscenza di questo evento, veniteci a trovare io, Juventino. Non dico spiegatato, però, cavolo, Juventino, studio fisica, che comunque voglio dire, è estremamente bello, però, come dire, ci sembrava una cosa, quindi lo dico a, chiamavo i due scappati di casa che erano rimasti con me a fare i tre scappati di casa, per dire andiamo a Torino a presentare il nulla che avevamo fatto in due giorni, di fatto, no? E è stato veramente incredibile perché abbiamo approcciato a quel incontro con una inconsapevolezza che ancora oggi mi fa capire, cioè, mi fa, come dire, mi dà anche un po' lo stimolo dell'inconsapevolezza, poi io troveremo magari un aggettivo anche migliore, dello start-upper. È l'incoscienza, l'incoscienza del giovane imprenditore, o anche dell'imprenditore, perché per fare gli imprenditori... L'incoscienza di non guardare agli ostacoli, anche proprio magari di vivere le cose più di cuore, più di petto che, anche per magari gente un po' come me, molto, come dire, che sta nei pensieri, che ragiona molto. E siamo andati là, addirittura uno dei miei aveva sotto la maglietta del Milan, perché diceva, io in casa dei gobbi con, come dire, devo avere una protezione, no? E quindi, un po' si vedeva perché era camicia bianca con sotto la maglietta del Milan, un po' così, secondo me si vedeva. Però è andato molto bene, chiaramente non abbiamo chiuso né il contratto con la Juve, né niente, e sono passati, come dire, poi tanto tempo. Però siamo tornati là, abbiamo conosciuto le persone, abbiamo preso stimoli e questo ci ha portato di fatto al 2017, dall'Hackathon fino al 2019, quando poi, anche lì, abbiamo fondato la società con i primi investitori e poi il percorso, diciamo, è stato anche molto veloce, guidato dall'entusiasmo da voler muovere un mercato comunque molto vecchio di per sé, anche su tanti fronti, soprattutto quello digitale. E poi, diciamo, recentemente questa maturazione e il successo anche di Kama mi ha portato a voler rilanciare con una nuova iniziativa, sempre nello Sportech e su in particolare l'AI e la blockchain, con appunto Wallico, che è la società con cui adesso stiamo sviluppando vari progetti, tra cui, diciamo, un progetto molto importante con Lega Serie A, Lega Serie B, eccetera. Quindi, diciamo, cercando anche lì di trovare quello stimolo per riuscire a lanciare dei progetti magari anche un po' più B2C, magari anche legati a dei settori collaterali, il mondo del calcio, che sicuramente vedremo, sono, come dire, che possono portare a una scalabilità del prodotto anche maggiore. C'è una domanda simpatica che mi viene in mente ogni tanto, che ci pensavo anche nella nostra avventura brasiliana. Il primo giorno di scuola, quando uno decide di aprire una start-up, aprire un'azienda, c'è sempre quel, è ovvio che è progressivo, non c'è esattamente un giorno X in cui accade, però c'è quel primo giorno in cui praticamente tu dici, ok, oggi la mia giornata è dedicata a questa nuova società, a questo nuovo progetto. L'atto notarile. Sì, l'atto notarile, diciamo, è più una cosa legale, però entrare in un ufficio e dire benissimo, oggi stiamo lavorando a questa cosa. Com'è stato il vostro primo giorno di scuola, primo giorno di cama? Ma, guarda, veramente è stata una cosa progressiva. Poi ti posso dire, cioè, quando, soprattutto le prime start-up dove anche l'incoscienza è maggiore, no? Cioè, le scelte sono fatte molto più di pancia, molto meno. E anche il bello, diciamo, del percorso di maturazione di un qualsiasi imprenditore. Però ti dico, è un po' come uno che guida a velocità altissime e senti l'adrenalina e quasi, come dire, sei talmente concentrato che non hai il tempo per, come dire, guardare a come ti senti. Cioè, sono stati veramente anni, soprattutto quelli iniziali e quelli, diciamo, anche, come dire, gli ultimi prima di buttarmi su uolico, di fatto, ma che adesso siamo ripartiti con una carica in energia che non stacchi mai, non hai il tempo di dire come mi sento, come. Quello che ti posso dire, però, che una cosa la percepisci sempre, che è solitamente non parti mai da solo, parti sempre con qualcuno e quell'entusiasmo del gruppo, soprattutto dei giovani, e me lo ricordo anche sul banco dell'università, cioè quando andavo in giro con il pitch del progettino sul mondo dell'e-commerce, perché, cioè, lì vedi comunque che se hai entusiasmo, se ci credi, comunque le altre persone, non so, forse la natura umana, no? Nel voler, come dire, far parte di qualcosa, trovare un senso anche alla propria vita, al proprio lavoro, al proprio, quindi quel senso è lo stare insieme e il creare qualcosa e raggiungere degli obiettivi che francamente erano sempre, come dire, sono cresciuti sempre, sempre di più, ma comunque posso dire che un po' il nostro carattere era subito quello di fissarci agli obiettivi molto, molto ambiziosi. Infatti, come dire, da quando noi abbiamo fondato la società, dopo due anni, praticamente dal 2021, abbiamo chiuso l'accordo con Lega Serie A, per cui in due anni abbiamo scalato dalla fondazione a quell'accordo che secondo me, appunto, è anche un po' storico dal punto di vista proprio del simbolico, no? Certo. E lì è stato un percorso estremamente veloci, di due anni di passione e di conoscere un mondo, quello del calcio, che è un mondo estremamente particolare. E il primo che ha creduto in voi, chi è stato? Il primo che ha proprio creduto, anche lì, forse in coscienza o non lo so, è stato De Zerbi, che è l'allenatore attuale, diciamo, in Premier League, ma che all'epoca era a Sassuolo. Quell'incontro è stato studiato, cioè, hanno preso degli advisor, che poi ci hanno portato ad altri advisor, poi si sono arrivati a essere usciti incredibilmente a essere ricevuti durante i ritiri, che è un momento poi perfetto perché loro sono un po' più liberi e che hanno anche l'entusiasmo della prossima stagione, non sono ancora, diciamo, in una situazione sotto stress del devo, sono iniziato, aspetta, infatti il mondo dei ritiri poi ci è stato molto utile per la crescita successiva. E lì mi ricordo che abbiamo fatto una presentazione con una piattaforma che se ci penso era veramente orribile, ma che si vede che su due concetti, che ancora mi ricordo, che erano uno l'idea dell'integrazione di tutti i dati e il secondo concetto era che lui dal dato aveva il link direttamente al video, quindi dai passaggi poteva passare direttamente a vedere il video di quei passaggi in quella zona di campo e quella cosa si vede che non l'aveva ancora pensata nessuno, questo ha colpito la sua attenzione e ha detto a cordino da 9.000 euro o qualcosina, che però ci ha permesso di incominciare a partire e ovviamente questo è quello che fa poi nascere le start up, cioè la fiducia di persone anche come dire con poco, che non è solo quello che ti danno, perché chiaramente un'azienda non è che può stare, noi l'accordo l'abbiamo chiuso, il primo accordo era intorno a settembre del 2020, l'abbiamo fondato a giugno del 2019, quindi è stato un anno senza avere nessun tipo di riscontro, di accordo economico che ti bastano anche 500 euro per farti contento all'inizio, però poi dopo come dire parte uno, parte l'altro, un po' un domino, una catena. E questo è bello da ascoltare perché ci fa, diciamo, spinge un po' tutti a continuare nei propri sogni, nelle proprie imprese eccetera, però ci vuole anche la pazienza di dire vado in cerca del contatto giusto che mi dà il primo sì, perché il primo è quello fondamentale, perché quelli dopo sì, servono ad andare avanti, però se non c'è il primo… Sì, infatti, cioè, veramente il primo è stato… ma io mi ricordo, dicevo, quando faccio il primo cliente, devo fare il primo cliente, dobbiamo fare il primo cliente, poi quando lo fai, veramente è una sensazione enorme. Ma all'inizio ha creduto proprio la società del Sassuolo solo lui? Lui. Solo De Zerbi? Sì, perché poi il mondo del calcio è un mondo complesso, la privacy, l'utilizzo di dati sensibili eccetera, quindi, diciamo, quell'anno lì aveva cercato di passare dalla società, però, diciamo, c'erano delle complicanze, anche dovuto al fatto che neanche io nei panni di qualcun altro avrei dato fiducia a me stesso, forse, in quella condizione. Adesso, a parte gli scherzi, però, diciamo, veramente è credere in dei ragazzi, fargli partire. Credo comunque che… eravamo giovani, però non avevamo proprio due anni, avevamo finito gli studi… per cui, diciamo, è stato un momento che ancora mi ricordo, eravamo lì in ritiro, loro erano in una ventina, una quindicina minimo, noi eravamo in tre, tre, quattro più, diciamo, gli advisor, tante persone, sembrava la convention, diciamo, dell'innovazione del mondo del calcio. E poi, ovviamente, è tutto un mix di cose, no? Soprattutto in Italia, ma anche in altri paesi, cioè hai sempre bisogno di partire e non riesci a partire ormai con la complessità anche di fare il digitale, a meno che uno, appunto, non sviluppi da solo, riesca a dedicare del tempo e abbia tutte le competenze che servono, ma io lo vedo anche oggi facendo impresa, soprattutto l'impresa tech, che ormai, giusto per aprire anche solo una startup o una software house, senza andare sul mondo startup, hai bisogno di tre, quattro competenze diverse, cioè il back-end, il front-end, il data scientist, cioè, perché non è, puoi pensare che una persona possa fare tutto, no? Con degli standard che sono comunque molto alti ormai in quasi tutte le industrie, quindi ormai fare sicuramente tecnologia serve qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista della struttura, no? Quindi un po' di investitori, serve partire, serve ragionare, lavorare molto con le università, cioè c'è un mix di fattori che vanno sicuramente studiati. Poi nel tempo siete cresciuti, motivo anche per cui ne stiamo parlando oggi, e avete piantato una bandierina anche in Brasile, no? Però il mercato brasiliano del calcio è molto complesso, diverso da quello europeo, no? C'è un potenziale inespresso per certi versi, per altri invece è oggettivamente magari o più indietro o diverso dal mercato europeo e magari dal mercato statunitense che ha un'altra vocazione. Qual è il potenziale vero che tu vedi sul mercato brasiliano? Lo scouting, nel senso che nel nostro settore, cioè dello sport tech e nello sport calcio in generale è proprio lo scouting, quello che è il driver principale e l'attenzionamento anche dei club locali sul riuscire a far crescere, no? C'è anche questo poi storytelling, no? Dei brasiliani che vanno a giocare in Europa piuttosto che… quindi lo scouting certamente e devo dire che il Brasile di per sé è un paese che comunque sta cercando di innovare molto, ci sono anche vari startup che cercano di fare o fanno quello che un po' abbiamo proposto noi o stiamo proponendo anche su vari fronti. Chiaro che ora siamo in un momento anche, come dire, sicuramente sul Brasile, poi ci torneremo, è un percorso di studi che è iniziato proprio con Kama, ora con Nuolico stiamo cercando anche lì di strutturarci per capire realmente cosa serve, esiste però in questo momento un pivot tecnologico su cui tutti noi, soprattutto che non siamo più diciamo proprio del primo pelo, dobbiamo attenzionare che è sicuramente l'intelligenza artificiale e l'intelligenza artificiale veramente drasticamente cambierà il modo, parlo del mio settore, cioè il modo con cui possiamo accedere ai dati, possiamo esplorarli, cioè tutte queste piattaforme che ti fanno vedere magari le statistiche con una dashboard così, cioè verranno, questa è la mia visione, chiaramente soppiantate da una piattaforma molto più fluida, molto più, come dire, interattiva, che permette di andare a masticare i dati non come il creatore li ha immaginati, cioè ti faccio vedere qui i passaggi, qui i duelli, qui i tiri, ma proprio con cos'è che vuoi vedere e io te la creo in automatico. Per cui, e questo ovviamente è impossibile che noi riusciamo a competere con le aziende che poi si occupano di intelligenza artificiale, ma i tool diventano sempre più democratici, l'accesso ai dati paradossalmente che veramente fino a dieci anni fa erano una cosa costosa, complessa anche da trovare sul mercato, in questo momento i dati si stanno democratizzando anche dal punto di vista del prezzo, sono molto più accessibili, esistono delle banche dati enormi, gratis, per cui ci si può sperimentare. Questo pivot tecnologico è molto importante per tutte le aziende di questo settore che sono polverizzate, che fanno tecnologia nel mondo del calcio per veramente cercare di capire qual è la nuova chiave per scalare dei prodotti 2.0, diciamo. Tra l'altro con il Brasile, tra Europa e Brasile dal punto di vista del calcio c'è un gap importante, abbiamo visto in una delle nostre rubriche che facciamo con Mauro Mantica, Update Brasil, abbiamo visto proprio i numeri del calcio brasiliano dal punto di vista del business, a parte il Palmeiras e il Flamengo, gli altri sono veramente distanti. In Corinthians forse. Eh, ma comunque siamo a livello proprio di fatturato, di tifoserie, ecco l'analisi che si può fare sono le grandi tifoserie brasiliane, in Europa sono medie magari e negli Stati Uniti sono piccole, no? La capacità di investire in tecnologia bassa in Brasile e in Europa, diciamo, rispetto agli Stati Uniti, però poi i fatturati sono veramente, veramente distanti da quelli europei. Sì, che è anche un modo secondo me che tante aziende sportech stanno approcciando e sono in costante contatto anche con altre realtà e proprio prima ho parlato con un altro fondatore di una, diciamo, di una startup, il mercato del B2C è quello, è l'oro, no? Sì. Che su cui tutti noi stiamo addocchiando e stiamo cercando con varie logiche, con varie visioni ma è anche rispetto a quello che dicevi tu sul Brasile, diciamo che è un mercato, chiamiamo, o magari poco strutturato, con dei fatturati ancora troppo bassi, però che mercato del B2C ha, quindi se si riesce a trovare la chiave, per cui la tecnologia applicata al mondo dello sport riesce a creare poi degli stream di revenue molto più importanti, in Brasile abbiamo una delle community, credo, più sfegatate e quindi monetizzabile di per sé, no? Per cui, secondo me, l'ambiente, i fundamentals, come si dice, in Brasile sono eccezionali per una crescita, anche perché poi di fatto il nostro obiettivo come aziende sportech è proprio quella di far guadagnare di più le società o renderle più sane, renderle più, come dire, consapevoli di alcune scelte. Quindi, secondo me, anche nel campo brasiliano il B2C giocherà un ruolo veramente importante. Dal punto di vista dei dati, che poi è quello che un po' ha fatto girare il tutto, sono diventati sempre più importanti, tra l'altro parallelamente più o meno a livello di mercato e innovazione tecnologica in parallelo negli anni della crescita di Kama, tanto che alcuni articoli dicevano che avete fatto vincere a voi lo scudetto a Napoli perché era una delle società che usava Kama, però quanto adesso stanno impattando veramente i dati all'interno delle società di calcio e del mercato del calcio? Quanto li chiedono adesso? Allora, ci sono sicuramente e esistono ancora delle sacche no data, possiamo chiamarle, no? Cioè che poi ovviamente il no data non è vero, nel senso che comunque quando non ci sono i dati o la trasparenza dei dati e del digitale, c'è comunque dall'altra parte l'esperienza della persona. Quello su cui noi crediamo, e così penso che credono un po' tutti, in tutti i settori, è che l'esperienza va poi al pari passo anche nella lettura dei dati, no? Quindi io credo che realmente Kama è stata una delle prime società ad avere un impatto culturale, possiamo chiamarlo, per gli addetti ai lavori, che è poi quello anch'io che ancora oggi mi porta dentro come orgoglio più importante, cioè far ripresentare magari i dati con una veste un po' più sexy, un po' più, che bello, voglio approfondire, voglio vedere anche io un po' i dati, e sempre di più voglio dire, noi ci siamo avvicinati in verità a quello che era il gap anche con la Premier League, nel senso che già quando è nata Kama, c'era una società in Premier che avevano le software house all'interno della società. E' chiaro che poi una società più va grande, più va anche custom, quindi si cerca di creare le proprie soluzioni, cerca di portar dentro all'interno delle competenze, per cui la scalabilità poi di un prodotto va anche sempre rivisitata e rivalutata. Verissimo il fatto che ora secondo me i dati sempre di più sono imprescindibili. Devo dire, una delle start-up, per non citare Kama, ma che ha rivoluzionato credo ancora più di Kama il mondo del calcio è stata per esempio Wisecout, che ha avuto vari livelli di crescita, di impatto, eccetera, e solo loro sono stati proprio i primi, ancora quando io credo forse ero al liceo, forse ero alle medie, ancora prima forse, cioè a pensare, a portare i video, che sono stati il primo aspetto. Poi Kama è arrivata sul layer successivo, cioè ok, ora abbiamo i video, abbiamo i dati, abbiamo il GPS, abbiamo tutta una serie di provider, integriamo tutti in una soluzione. però prima le prime fonti che hanno fatto capire a uno scout che poteva vedersi magari più partite attraverso il video, certo poi magari la partita critica te la vai sempre a vedere dal vivo per tutta una serie di fattori, però quanto è importante riuscire a fare uno screening attraverso i dati? E questo credo che ormai tutti utilizzano soluzioni che siano Wisecout, siano Kama, siano altre piattaforme, tutti fanno un pre-screening attraverso i dati e poi, un po' come noi, facciamo le ricerche su Google. Poi dopo andiamo e approfondiamo. Certo. E le società cosa ti chiedono oggi? Quali sono le necessità? Allora, è sempre complesso capire quello che realmente, quando uno poi si occupa, come mi occupo io, di innovazione, cerca sempre di portare la soluzione prima ancora che gli venga richiesta. Perché sennò poi diventi un mero esecutore di richieste. Quello che ti posso dire è che dal punto di vista finanziario, quindi della valorizzazione dei propri asset, le società, e non solo le società di calcio, i club, stanno cercando di creare un mercato un po' più liquido sui propri asset. E asset sono i giocatori, che pesano in alcuni casi anche l'80% del valore dell'azienda, ma sono anche i brand, sono le sponsorizzazioni. E il mercato del calcio, lasciatemi dire, è un mercato, anche per chi ci ascolta, è un mercato veramente un po' atipico. Nel senso che, pensate a una qualsiasi azienda di un qualsiasi altro settore, strutturata magari. Io ho un CFO, faccio il piano, faccio i forecast di vendita, eccetera, eccetera. Nel calcio sei una media società e retrocedi, ti sballa completamente, o se vai in Champions League ti sballa ulteriormente tutto il business plan. Quindi dove sta secondo me ora il supporto della tecnologia? Sempre attraverso i dati e sempre attraverso le performance, perché queste società, il calcio, vive di performance. Però sempre valorizzando quelli che sono i propri asset. Una gestione un po' più liquida, un po' più mitigata del rischio su questi asset, quello secondo me è quello che inconsciamente le società ci stanno progressivamente chiedendo sempre di più. E poi Carlo, per andare a proiettarci un po' verso il futuro, perché Kama coincide quasi con la tua storia di imprenditore. Sì. Però adesso hai superato i trent'anni. Non ancora. Non ancora. Sei nell'anno dei trent'anni. Non sono neanche nell'anno dei trent'anni. Allora ci siamo. 29. Però diciamo psicologicamente... Stai per arrivare ai trent'anni. Psicologicamente me ne sento anche 80. Stai avvicinando ai trent'anni di quelli che hai. Allora continuavo a dire prima quando ero giovane, quando ero giovane trent'anni. No, proiettandoti però anche da imprenditore verso il futuro con Uolico e questi nuovi progetti che stai portando avanti. Dove stai andando adesso? Sicuramente sempre l'ambiente è sempre quello dello sport e della tecnologia. Stiamo cercando delle soluzioni molto più B2C e legate più che altro al mercato anche, come dicevo prima, della valorizzazione degli asset. Quindi chiamiamolo, è un FinTech SportTech per intenderci. Oltre a questo indirizzo che è molto importante, dove stiamo lavorando in questo momento è ancora in una fase embrionale con i grandi partner. Quindi ancora, anche se l'obiettivo è il B2C, chiaramente stiamo lavorando proprio, come dire, con le persone, nel team a progetti con grandi leghe, grandi federazioni, grandi agenzie, grandi media. Per cui stiamo cercando di intercettare quelle che sono le loro esigenze, sempre dal punto di vista però della valorizzazione dei loro asset, che poi coincidono molto spesso con asset patrimoniali, anche nel caso dei club, i giocatori, ma di fatto anche, come dire, i tifosi, la gestione dei tifosi. Cioè, il Barcellona, c'è stato questo Spotify che non aveva la gestione di miliardi di persone che poi lo seguivano e quello poi ha dato una scintilla anche per far capire che realmente sì, sappiamo che ci sono 4 miliardi di tifosi del mondo del calcio, ma veramente conosciamo chi sono, cosa vogliono e come realmente dargli quello che potrebbero volere. E qua ci sta anche il concetto poi che mi porto dietro chiaramente, di innovazione, avendo poi portato l'idea dell'integrazione con Kama, sul mondo performance, l'idea di integrare tutti dei mondi che sono staccati dal ticketing al merchandising. Cioè, tutti questi mondi ancora non si parlano in un'ottica di valorizzazione di quelli che possono essere le strategie di vendita, di collegamento del proprio prodotto. E così vale per un Dazon, come vale per una lega, una federazione, un club. E questo è estremamente stimolante proprio perché, devo dire, il mondo dello sport è nel mondo dell'intrattenimento, credo, il principale. E il mondo dell'intrattenimento è realmente il ponte più importante con le persone, il consumatore finale. E tutte le nuove tecnologie, diciamo, su cui si stanno concentrando le aziende. Pensa all'AI. L'AI ha bisogno di tantissimi dati. Dati da masticare, preferenze. Qual è uno dei settori più importanti su cui andare a testare tutte queste cose? Guarda caso, abbiamo per esempio Google con DeepMind, che ha fatto questa parte con Liverpool, con dei modelli di AI pazzeschi. Cioè, questo è veramente un settore che verrà valorizzato anche in un'ottica proprio di ricerca, di tecnologia. E così pensiamo alla blockchain. Cioè, pensiamo a tutto quello che sarà poi il futuro reale del tech, diciamo, già 2.0, ma che deve fare ancora saldo verso il 3-4.0. Carlo, prima di lasciarci ho ancora un paio di curiosità, quindi ci allarghiamo ancora per un poco. Secondo te cosa possiamo fare come italiani e voi chiaramente come tecnici del settore per far emergere ancora di più il calcio italiano da un punto di vista tecnologico e poi anche dell'espansione commerciale? Perché poi quello che tutti si aspettano è che la Serie A sia più seguita. E poi mi ricollego al discorso Brasile, cioè cosa si può fare, come vedi tu il Brasile, se è solamente da un punto di vista del consumatore finale o se è anche uno spunto per tirar fuori spunti tecnologici, cioè per noi italiani. Sì, penso che, guarda, sicuramente dal punto di vista dell'Italia la tecnologia e i dati aiutano proprio nelle scelte, come dire, nelle scelte dall'allenatore al dirigente, come dire, decision making process, no? Aiutare le decisioni e questo è la tattica e devo dire che il calcio italiano è in assoluto il calcio più tattico, come dire, che c'è in questo momento. Non a caso comunque tantissimi allenatori proprio di valore sono proprio italiani, da Ancelotti, ne possiamo citare davvero un'infinità, gli zerbi che citavamo prima, no? Quindi il calcio italiano può esportare e può insegnare la tattica nel mondo, anche attraverso i dati, con i dati, con la tecnologia e così, come dire, il Brasile diventa anche, come dire, il ponte perfetto, no? Cioè, un calcio molto, come dire, tattico, molto pensato, molto anche, come dire, difensivo, ma proprio perché, come dire, cerca di studiare tutte le situazioni con l'antipodo del calcio brasiliano, che è un calcio molto più, come dire, molto più aperto, più gioioso, più, come dire, più talentuoso forse anche, possiamo dire. E questi due mix, secondo me, sono esattamente i due ingredienti perfetti per poi far nascere la prossima idea vincente. Cioè, mettere insieme la passione da una parte e la cultura che c'è in Brasile con la cultura italiana diventa anche per noi una sfida importantissima di ricerca, di sviluppo, per adattarci a dei prodotti che speriamo poi possano essere unici e innovativi. Carlo, parabéns, cosa possiamo dire? Parabéns, 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 ma ci aspettiamo praticamente il prossimo mondiale, no? Assolutamente, quello su cui ci stiamo concentrando. Se l'Italia sta usando Kama, la sta usando, no? Ci aspettiamo un mondiale. Sì, sì, beh, sicuramente, diciamo, speriamo tutti che possano usare tutto, però, diciamo... Dopo lo spazio del Napoli, no? Sì, esatto, però il... no, siamo molto contenti, spero di potervi rincontrare in Brasile per un altro podcast. Però dopo il mondiale, prima fatelo con la nazionale italiana. Esatto, poi... Esatto, però un podcast vi vengo a trovare molto volentieri anche a San Paolo. Grande. Bene, grazie davvero dell'invito oggi. Grazie Carlo, davvero, è un'altra storia di start-up che è oramai cresciuta, no? È una start-up tra Italia e Brasile, è un'altra storia per noi di Buongiorno San Paolo e la nostra rubrica Start-up Eros e Investidores. Un abbraccio, alla prossima. Ciao. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.